Il progetto Il mondo cambia e cambia il commercialista nasce dalla voglia di migliorare le forme di dialogo e di interazione dello studio con il mercato. Noi sperimentiamo sempre con curiosità, ma in questo caso abbiamo proprio cambiato le nostre abitudini. Obiettivo? Precedere le richieste del mercato, aumentare e migliorare la nostra produttività, ma anche migliorare la qualità della vita nostra e di chi lavora con noi. Con questo progetto abbiamo investito in tecnologie per lo smart working ad alte prestazioni, puntando su ergonomia, immediatezza d'uso e semplicità degli strumenti che ora abbiamo a disposizione. Abbiamo potenziato la comunicazione verso il mercato, progettando piattaforme innovative di contatto, predisponendo un nuovo sito, sviluppando un'app dedicata e soprattutto definendo una strategia di presenza sui social media. Con le nuove postazioni siamo in studio anche quando non ci siamo. Questo è un minor vincolo che si traduce in una migliore reattività dei professionisti e collaboratori di aiuto alle sfide quotidiane. Contattare lo studio ora è più semplice, tanto per il cliente abituale quanto per chi ancora non ci conosce e ha bisogno di capire in fretta se possiamo essere i professionisti più adatti alle sue necessità. Il nostro obiettivo è anticipare i cambiamenti e seguire la strada dell'innovazione per inventare oggi quello che ci chiederete domani. Lo studio barbiere associato ai dottori commercialisti di Bologna, anche grazie ai fondi PORFESER, investe qui.